ragazzi oggi ciclo turistico pronti siamo appena partiti prima salita la mucca in mezzo al passaggio dritto bellissimo è stato uno dei pochi a salire ma che era sta capata madonna con che facilità è stato uno dei pochi a salire Credo che non è difficile, il problema è un po' la rincorsa. Vai! Grazie. Questo è il motivo per cui il trial serve in MTB. Non ci credi che me li sono fatti tutti senza fermarmi? No, è tipo trial alla fine. Vai che l'ho mantenuta, vai! Divertentissima questa zona. Un po' di MTB molto difficile, tecnico al massimo. Grazie. Grazie. Ragazzi, l'impernata per la foto. Fatta. Eh, ci dobbiamo fermar. Magari no qua, che sta in mezzo. Per il meno finì la via sotto. Non so. Per il meno finì la via sotto. Non so. Per il meno finì la via sotto. Non so. Perché, oltre via sotto. Mi ha fatto un po' di radici giustone la curva. Bello! Ragazzi! Bagnop sul tronco! Grazie mille. Grazie mille. Scusami, ti passo a sinistra. Grazie mille. Grazie mille. Ma fa la curva là, fa la curva raga. E allora io taglio. Non potete capire quanto stavo in fuorisella. C'è, ho tagliato una curva completamente. Stavo proprio in verticale tra poco. Grazie mille. 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 E mi sono leggermente bagnato la scarpa. E ci siamo divertiti un bel po', dovrebbe esserci l'ultima discesa. Molto divertente questa situazione. È diventato l'unità boschiva per un minuto. È diventato l'unità boschiva per un minuto. Ragazzi, finalmente! Ragazzi, ho una fame esagerata.